E' visitabile fino al 14 ottobre 2018 la mostra targata Muse intitolata Gong dell'artista marchigiano Eliseo Mattiacci al Forte Belvedere a Firenze. Obiettivo dell'esposizione è la valorizzazione del Forte Belvedere come location ideale per una mostra che sfrutta sia i locali interni della fortezza, con diverse raccolte prestate da collezioni dell'artista e da privati, sia gli ampi giardini terrazzati dove trovano collocazione le grandi opere in acciaio corten di ispirazione cosmico-astronomica orientate da un lato verso il grande cantiere rinascimentale della città di Firenze, dall'altro verso le colline che ospitano l'osservatorio astrofisico di Arcetri, non lontano dall'ultima residenza di Galileo Galilei. La mostra Gong di Eliseo Mattiacci conferma Firenze come città dinamica non solo culla del Rinascimento ma che rivendica con umiltà tenacia un ruolo da protagonista dell'arte contemporanea e dell'arte pubblica in particolare. Si tratta di una mostra inedita, un omaggio ad un grande artista contemporaneo italiano di fama internazionale come Mattiacci e la conferma di una vocazione, quella del forte velvedere che piace sempre di più ai fiorentini, ai visitatori, agli amanti dell'arte perché coniuga la grande architettura, la grande storia, la bellezza imponente di questo forte da dove si gode di una vista sublime con l'arte contemporanea, con la grande arte contemporanea. Rappresenta innanzitutto in forme scultore di enorme potenza l'anelito dell'essere umano a commisurarsi con l'infinito, a gettare lo sguardo in alto, pur stando con i piedi direi quasi affondati dentro la terra per farsi penetrare, attraversare dall'energia più profonda del nostro pianeta, quella che ha poi caratterizzato i riti sciamanici direi fin dai primordi. Mattiacci è un artista che riesce a metterci in contatto con la natura profonda del nostro essere uomini della terra, collegati al pianeta e di essere anche però sempre rivolti con questo desiderio di spazio cosmico verso l'alto.